nel video di fine settimana per il nasdaq avevamo paventato due scenari entrambi passano dal test di 11 e 5 il primo scenario era quello che appunto vedeva il test dei minimi del 18 maggio con il test del supporto target di 11 e 5 che era stato toccato già alla fine di maggio che probabilmente avevamo detto venerdì sarebbe stato rivisitato quindi poi una volta qui o interviene la domanda in qualche modo oppure se l'11 e 5 dovesse cedere di botto si aprono scenari molto più pesanti avevamo fatto vedere che l'obiettivo ulteriore obiettivo di medio termine in area 9000 però quando poi queste cose cominciano a prendere la forma che state vedendo del coltello che cade con due gap consecutivi di cui questo qui è un gap che vedremo anche su scala settimanale se non verrà chiuso quindi un gap settimanale non è così frequente quindi quando c'è il coltello che cade poi non si sa dove si va a finire ho tracciato rispetto al grafico di venerdì questo supporto grafico a 10 e 9 perché vista la volatilità e ora guarderemo fra un po che ovviamente è ritornata e schizzata di nuovo sopra 30 parlo del vix ma anche del v stocks quindi vista la volatilità non è escluso che questo sia un test tra virgolette cioè che in realtà si vada a rompere questi supporti a far scattare numerosi stop a far scattare un panic selling che potrebbe anche estendersi fino a 10 e 9 nel breve prima di un rimbalzo ecco poi c'è lo scenario come dicevo venerdì armageddon per cui il coltello cade e questo continua a scendere fino agli obiettivi successivi il messaggio che arriva oggi è in parte positivo in parte negativo la parte negativa l'ho già detto non è bello non è bella questa discesa a piombo classica forma del coltello che cade e non è di buon auspicio con due gap consecutivi e l'aspetto positivo è che siamo sia i prezzi si sono fermati all'interno appunto di questa fascia di supporto quindi per il momento non è stato ancora rotto questo è l'indice stiamo guardando l'indice quindi non ci sono i volumi se andiamo sull'etf delle 3q dove ci sono i volumi notiamo sì un aumento dei volumi come giusto che sia ma non ci sono ancora i volumi i volumi del panic selling cioè dovremmo vedere degli spike molto più alti per poter dire che diciamo siamo vicini a una fase di panic selling con un possibile possibile esaurimento di questo movimento quindi questi sono dal punto di vista tecnico due segnali discordanti perché uno potrebbe dire vabbè ma questa è divergenza di volumi sia divergenza di volumi però il momentum è sparatissimo quindi è una fase veramente enigmatica non che i mercati siano facilmente leggibili comunque questa in particolare è più enigmatica del solito perché tra l'altro stiamo lavorando in un regime completamente atipico cioè in genere quando l'equity a questi movimenti al ribasso così importanti il bond tendono a compensare a salire e invece no qui il terremoto parte proprio dal dai rendimenti guardate l'andamento parabolico del decennale americano anche oggi estensione questa misattanto di buying climax quindi rottura del massimo precedente e siamo arrivati praticamente in area 3435 con il massimo 345 buying climax che vuol dire il diciamo l'estensione finale una corsa che comincia ad avere il corridore comincia ad ansimare non mi meraviglierebbe questo è il rendimento del bund non mi meraviglierebbe un chi reversal presto chi reversal significa un reversal una manifestazione tipo una mega shooting o una mega mega engulfing che stoppi questo movimento verticale che è assolutamente fuori dal comune chiaro che ora stanno si stanno innestando altri fattori che per cui la speculazione in questo momento a campo libero no cioè mercoledì c'è la federal reserve quindi chi ostacola un movimento del genere fino a quando non sentirà cosa fa la banca centrale americana chi ostacola un movimento del genere quando cominciano a saltare le difese sulle opzioni visto che venerdì c'è una mega scadenza tecnica il quadrupole witching quindi è chiaro che questi movimenti avvengono guarda caso poi in concomitanza di eventi appunto particolari come quelli che ho detto questo e quindi il messaggio è comunque a prudenza in ogni caso perché queste sono fasi di altissima volatilità dove è pericoloso andare a fare l'indovina indovinello del massimo del minimo guardate quanti ne ha fatti di fila il rendimento se andiamo a vedere il bund e qui parliamo del bund cioè di uno dei degli strumenti tra virgolette più stabili almeno in passato guardate che movimenti che ha fatto nell'ultimo periodo un minimo dietro l'altro c'è solo una già una gialla qui il 7 di giugno comunque non è mai riuscito a impostare una minima minimo segnale di reversal però ecco sul bund anche sul bund viene fuori una candela di selling climax generalmente queste espansioni alla fine dei movimenti più volte che no segnalano stanchezza qui abbiamo divergenza di volumi ecco potrebbe venire forse dai bond un segnale certo questo non è il momento di andare short è inutile che lo dica anche se non è molto pericoloso fare il l'indovina il minimo perché come vedete ne ha fatti n di seguito e quindi sono fasi che vanno gestite in modo molto particolare e comunque di massima il stare alla finestra non è sbagliato come diceva quel tale ci sono tre posizioni go long go short e go fishing cioè andare lunghi andare corti e andare a pescare andarsi a fare una passeggiata in attesa di segnali più chiari ecco gli altri indici americani abbiamo preso il nasdaq perché quello che chiaramente soffre di più in in un contesto di rendimenti al rialzo però tutti gli altri anche se hanno percentuali meno pesanti il nasdaq chiude meno 4 e 6 il dow jones diamogli comunque un'occhiata chiude meno 2 6 ma la configurazione è la stessa sono tutti andati a rivedere i minimi del 18 20 maggio addirittura l'S&P 500 forse ha chiuso sotto ha chiuso sotto il minimo del 20 maggio e quindi i nostri indicatori no abbiamo usato in passato apple 131 apple guarda del grafico di apple stanno facendo tutti la stessa cosa quindi test dei minimi di maggio l'altro nostro indicatore il bitcoin meno 11 per cento lo facciamo vedere perché oggi è andato a toccare al tic non so se vi ricordate adesso non un po di tempo fa avevamo fatto vedere il calcolo di questi obiettivi è andato a toccare al tic il target di questa figura di proseguimento no quindi questo questa figura di distribuzione intermedia dopo la salita dopo la discesa che si era temporaneamente fermata nel mese di gennaio nuova figura di distribuzione chiamatelo doppio triplo top quindi il target è la proiezione dell'altezza di questo rettangolo eccolo chiamiamolo così quindi vedete la distanza 0 1 proiettata verso il basso dal 2 ci siamo arrivati al tic oggi dopo un lungo periodo di stazionamento a metà con un paio di finte di pullback però vedete qua la volatilità di stop line ha contenuto molto bene il bitcoin continua a muoversi in modo molto tecnico ecco il bitcoin oggi forse ha fatto dei volumi un po più da panic selling quindi se questo è il nostro anticipatore io direi che visto il target raggiunto dal bitcoin che anche adesso guardando indietro è anche un supporto grafico questo di scusate diamo i numeri invece di parlare sempre vagamente 22.000 area 22 23.000 potrebbe potrebbe il bitcoin anticipare forse qui un rimbalzino quindi vediamo anche perché alla riunione della fed mancano due giorni un altro segnale importante direi che viene dal settore dell'energia e settore energia molto speculato perché il prezzo del petrolio a causa anche delle tensioni geopolitiche che sono ecco qua guardate il break al mese nel mese di alla fine del mese di febbraio quando è partita l'ultima leg quest'ultima leg rialzista per stiamo vedendo il grafico di exxon mobil uno per tutti comunque cominciamo a vedere segni di reversal importanti sui titoli dell'energia e quindi attendiamo che anche il petrolio ci dia dei segnali più chiari per il momento non arrivano ecco un reversal del petrolio su questi livelli potrebbe forse anche allentare le tensioni che ci sono sui rendimenti dei bond il petrolio diciamo delle materie prime il petrolio assieme al gas sono rimasti gli ultimi ancora stazionare sui massimi sebbene con volatilità altissima questo il gas americano oggi meno uno ma siamo comunque con oscillazioni molto molto ampie sempre in area 8 e 5 e invece le altre materie prime il rame hanno preso decisamente la via della discesa del ritest anche per quello che riguarda il rame dei minimi di maggio 4 e 18 con vedete come ha funzionato bene qui il test sia media 200 volatilità di stop line e trend line la vecchia trend line che era stata rotta funzionato molto bene ripartito verso il giù stessa verso giù stessa cosa l'argento 21 espansione verso il basso il test di 22 dal basso 22 del vecchio supporto che ha fatto da resistenza finisce qui loro ecco questa è anche una nota stonata perché in questa situazione di estremo caos e confusione generalmente l'oro fa da bene rifugio però anche qui non vorrei che come detto in altri video in realtà influissero fattori esogeni come il fatto che appunto la russia vende oro per calmirare il cambio o quant'altro altre cose che si sentono comunque diciamo che loro in questo momento non fa non fa da bene rifugio non fa non riesce ad attenuare gli andamenti negativi degli altri asset può anche dipendere dal fatto e questo l'abbiamo visto per esempio nel marzo 2020 che quando ci sono liquidazioni di portafogli poi alla fine si vende tutto e quindi si vende anche l'oro il dollaro ecco il dollaro in questa situazione di tensione torna molto forte di conseguenza spara di nuovo l'euro verso i supporti a 104 con un'altra estensione e chiusura sui minimi continua a scendere anche in questo momento è ancora operativo questo cfd vediamo il dollar index più uno ecco che si riestende verso l'alto e buca il massimo precedente quindi lo il dollaro chiaramente nelle situazioni di confusione fa da fa lui da bene rifugio è molto frequente che quando ci sono turbolenze la volatilità molto alta sui mercati il dollaro vada su fiera in grid index torna in area di estrema paura che un'area dalla quale proprio a causa delle delle estensioni e dei e dei livelli di stress a cui arrivano gli indicatori ecco mettiamo per esempio il nostro dmi per far vedere torno un attimo al grafico del rendimento guardate il rendimento americano il dmi positivo torna su valori dai quali sono probabili degli stop non dico dei dei reversal a 180 gradi ma quantomeno degli stop valori molto alti e quindi questo fa il paio con il valore molto basso del fiera in grid index siamo su volatilità che torna andiamo sul vix sopra 34 ci riportiamo sui massimi scusate salto da una parte all'altra ma per far vedere come ci sono segnali più segnali che dicono che siamo su livelli di stress quindi o da qui davvero parte armageddon per cui ci spingiamo ancora più in alto come detto prima è più in alto nella negli indicatori di volatilità e più in basso con gli indici e oppure io mi aspetto un mi aspetto una frenata data appunto da queste situazioni di eccesso continuate a seguire ovviamente molto difficile fare possiamo solo fare scenari in questo momento l'analisi tecnica ci dà degli scenari ci dà degli scenari di probabilità e poi ovviamente sono le dinamiche di mercato il ribilanciamento fra domanda e offerta che deve che deve poi far muovere i prezzi di conseguenza ecco quindi continuate a seguire perché è inutile dirlo questa sarà una settimana molto importante dopo domani ci sarà la fed però continuano ad arrivare anche i dati economici e quindi basterebbe poco per innescare ricoperture perché in questo momento gli short abbondano sugli indici azionari e quindi attenzione alla volatilità attenzione al dimensionamento delle posizioni proprio per i motivi che ho che ho detto prima dunque chiuderei con una richiesta la richiesta riguardava docusign ecco docusign che l'altro giorno con gli earning qui chiaramente sembra tutto a scala ridotta l'altro giorno con gli earning meno 25 per cento e oggi è un altro meno 10 per cento a stento si vede perché comunque questo è un titolo mettiamo la scala mensile non stiamo a mettere medie particolari la scala mensile direi che dice tutto questo è un titolo quotato nel 2018 che si era mosso in trading range fino all'inizio della pandemia dopodiché anzi in realtà aveva cominciato a muoversi verso l'alto prima però diciamo con la pandemia è andato alle stelle l'amico segnala che a tutt'oggi risulta caro sulla base dei dati economici sulla base del e sono questi sono titoli growth che prima di produrre utili in modo stabile semmai li produrranno impiegano del tempo sicuramente la tecnologia di docusign è estremamente interessante ha avuto grande espansione di business durante il periodo della pandemia però poi quando non ci sono i fondamentali avviene quello che abbiamo sempre richiamato nel corso del 2021 chi segue si sarà annoiato a sentire i richiami alla prudenza sui questi titoli growth che in quell'anno facevano faville e va a finire così e questa è comunque un'azienda che ha un prodotto non è un'azienda come tante altre quotate che abbiamo visto arrivare alle stelle che addirittura non fanno neanche fatturato non fanno utili neanche il fatturato mi riferisco a titoli come per esempio quantum scape che produrrà le prime batterie nel 2024 e quindi figuriamoci cosa può accadere ad altri titoli che non hanno nessuna particolare sostanza dal punto di vista economico dal punto di vista dei bilanci dal punto di vista del prodotto docusign ce l'ha quindi si spera che troverà un supporto per il momento dal punto di vista tecnico confermo quello che segnalava l'amico il supporto per il momento non si vede lo conferma la giornata di oggi un altro meno 10 non ci sono segnali tecnici particolari tranne che stiamo rientrando in un'ampia fascia che dovrebbe fare da supporto ampia fascia compresa fra 60 e 40 dollari va bene con questo è tutto abbiamo quasi finito il tempo anche oggi e vi rimando al video di domani intanto auguro buona serata a tutti grazie per il supporto che date ai canali lasciate nei commenti eventuali situazioni interessanti così poi le guardiamo assieme nei prossimi giorni ancora grazie buona serata